Raggiunto un accordo per costruire un percorso condiviso, trasparente e lineare, finalizzato ad individuare la modalità di affidamento della gestione dei rifiuti in Alta Umbria, che sia più idonea a soddisfare l'interesse delle comunità e non dia adito ad alcun dubbio sulla scelta che sarà compiuta. Il presidente dell'ambito territoriale integrato umano dell'Umbria, Luciano Bacchetta, sintetizza i lavori dell'Assemblea che si è tenuta nella residenza municipale di Città di Castello, sottolineando con soddisfazione la partecipazione numerosa e propositiva dei rappresentanti dei 14 comuni del comprensorio. Intanto voglio ringraziare i rappresentanti di tutti i comuni componentelati per la loro partecipazione, perché è stata veramente molto numerosa, dall'altra parte non poteva essere diversamente, perché l'argomento è di fondamentale importanza, riguarda una partita di 20 milioni l'anno per 15 anni, quindi si comprende quanto sia delicata e difficile e impegnativa la decisione che dobbiamo prendere. Stiamo valutando attualmente le ipotesi in campo, quella della gara e quella dell'affidamento in Ausu, valutando i pro e i contro di entrambe le soluzioni, partendo da un elemento fondamentale che è quello di lavorare per costruire un percorso il più condiviso, il più trasparente e il più lineare possibile. Quindi ci rivedremo a breve, proprio per individuare l'ipotesi in campo più adatta, più utile per l'interesse delle nostre comunità e soprattutto con la convinzione di impegnarci a costruire un percorso il quale non dia adito a nessun dubbio.